E' stata presentata questa mattina a Palazzo di Città la programmazione relativa al piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Gela. L'amministrazione guidata dal primo cittadino Domenico Messinese è decisa a cambiare rotta per quanto riguarda l'approvazione dell'importante documento che dovrebbe approdare in Consiglio Comunale ad inizio triennio e che invece è stata posta fino ad oggi all'attenzione dell'assise civica alla fine del primo anno del triennio. E' prevista una prima tranche di un numero pari a 12 opere pubbliche per un ammontare di 3 milioni e mezzo di euro. Sindaco, il piano triennale delle opere pubbliche prevede delle novità e una tra le novità più importanti è la partecipazione delle categorie. Sì, questo piano che abbiamo presentato è un piano propedeutico che deve seguire necessariamente il bilancio ed è il piano triennale 2015, 2016 e 2017. Però in realtà nella nostra amministrazione c'è una piccola anomalia che il piano triennale è come il bilancio una volta a consuntivo quindi noi già ci siamo impegnati proprio nel stilare questo piano che ai primi mesi dell'anno andremo a fare il nuovo piano triennale che sarà appropriato così al nuovo bilancio che si ha alle opere. All'interno di questo piano quindi troveremo per quanto riguarda il 2015 quello che è stato già realizzato, quello che stiamo portando a compimento ma già dal prossimo incomincieremo ad andare a riprendere tutta una serie di progetti che erano messi da parte, depositati. Quali sono le opere previste in questo piano triennale e come saranno coinvolti i professionisti? Allora i professionisti saranno coinvolti nel prossimo piano triennale che questa amministrazione ha preso l'impegno di realizzare entro il primo trimestre del 2016. Vedremo di stilare un bando o comunque vedremo di concertare una soluzione affinché si possa coinvolgere professionisti giovani e con esperienza per progettare la Gela di domani. La nostra attenzione è soprattutto sulle periferie ma non solo. Avremo il completamento della via Recanati, avremo pure il progetto per quanto riguarda il quartiere Albani-Roccella. Dopodiché stiamo dando una forte attenzione al verde, infatti per la prima volta inseriamo all'interno del piano triennale una manutenzione straordinaria del verde. Abbiamo anche inserito la manutenzione straordinaria per quanto riguarda pure le caditoie. Infatti abbiamo messo anche qui 150.000 euro per la sifonatura delle caditoie in maniera tale da iniziare a eliminare la puzza nauseabonda che esce da queste caditoie.